Palazzo Sabini Grisoni torna al suo massimo splendore dopo un accurato e complesso lavoro di recupero. All'inaugurazione, avvenuta poco fa, il proprietario dell'edificio, il comune di Capodistria, ha affermato che il valore non è solo storico architettonico. Qui avranno sede diverse associazioni che operano a favore delle persone più vulnerabili. E continuiamo con queste attività, quindi ci sono tante associazioni che hanno bisogno di spazio, tante persone che hanno bisogno di spazio e questo è uno di questi. A cavallo del XIX secolo i coniugi Francesco e Mariana Pola Grisoni, ultimi abitanti del palazzo, erano grandi sostenitori delle istituzioni benefiche a cui hanno lasciato anche gran parte del loro patrimonio, ha ribadito il sindaco. Nel corso del rinnovo ci sono state varie sorprese. Durante la ristrutturazione si sono trovati dipinti o freschi importanti, abbiamo cercato di salvarli il più possibile e quindi anche bisognava proclamare l'edificio come patrimonio culturale locale. E questo è stato fatto. In tempi brevissimi il Consiglio Comunale lo ha proclamato monumento di importanza locale. Questa è stata la condizione per ottenere fondi di intervento da parte del Ministero per la Cultura. Un ringraziamento va anche agli uffici che in tempi record hanno ottenuto la documentazione necessaria per avviare i lavori. A riguardo Capodistria rappresenta un ottimo esempio. Una sfida anche per i restauratori. L'edificio apparteneva dal Medioevo in poi alle nobili famiglie Sabini Grisoni. Perciò ne conoscevamo l'importanza. Il rinnovo è stato per noi come aprire un vaso di Pandora. Il restauro infatti non è ancora terminato. Dobbiamo ancora riportare alla luce tutti gli affreschi di un'intera sala. Se otterremo i fondi necessari procederemo pure con quelli sulle pareti che sono stati ricoperti dal latte di calce. Il rinnovo è costato 2 milioni di euro stanziati dal Comune di Capodistria con il contributo di fondi europei.